Scende ancora la curva del contagio in Sicilia, ma l'isola è indietro nelle vaccinazioni. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 9 al 15 giugno è migliorata l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti. Sono stati 131, il 10% in meno rispetto alla settimana precedente. L'isola, a meno di sorprese, si avvia verso la zona bianca a partire dal 21 giugno, ma i dati sulla campagna vaccinale non sono per nulla confortanti, soprattutto per quanto riguarda le somministrazioni a over 60 e anziani ultraottantenni. La Sicilia è penultima nella classifica generale di percentuale della popolazione vaccinata, ossia al 23,3%, a cui aggiungere un ulteriore 22,6%, solo con prima dose. Si piazza all'ultimo posto per alcune fasce d'età, soprattutto le più anziane. La percentuale di over 80 con ciclo completo è pari a 70,2%, quella della fascia 70-79 anni con ciclo completo è pari al 46,4%, mentre la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari al 33,9%. la sequenza 80-69 anni con ciclo completo è pari al 75,4%. Grazie.